Musica Completati in appena tre giorni i lavori di realizzazione del nuovo ponte di legno per l'accesso al maschio angioino. Tanto è legno molto più duro perché l'irocco è un legno molto più duro, questo è abete, allora non si dovrebbe operare abete per fare passaggi all'esterno. E dopo è stato messo degli assi in piedi in maniera che sotto ci sia un'aria di 3-4 cm, che a parte fa respirare ma fa correre anche l'acqua. Lo sponsor dei lavori, l'azienda Edil Legno di Treviso, ha eseguito gratuitamente l'opera in favore del Comune di Napoli. Stiamo avendo delle ottime risposte da parte della città, una città che riscopre il desiderio di prendersi cura delle proprie cose, dei propri beni e lavora fattivamente anche grazie all'amministrazione che sta lanciando diversi bandi e che costruisce le condizioni affinché i privati possano intervenire all'interno di questo progetto di cura come in questo caso, dove l'Edi Legno, che è una grande ditta di produzione e di lavorazione del legno di Treviso, ha voluto investire nella nostra città, e questo dimostra che poi non è vero che nessuni imprenditori non investono più nelle nostre città, ha voluto investire nella nostra città con questo lavoro di recupero, restauro e rifacimento dell'antico ponte-levatoio in legno del Maschio Angioino. Qui ad esempio sono stati tolti tutti i vecchi legni che andavano incontro oramai a fenomeni di putrescenza anche, hanno messo un legno bellissimo in questo caso che è l'Iroco, un progetto di sponsorizzazione e di valorizzazione appunto dei nostri beni.